Tutto pronto per domenica 12 maggio. Si giocherà gara 2 dei quarti playoff di Serie B interregionale. Orlandina è impegnata sul campo del Basket School Messina, una delle poche squadre che ha sconfitto i bianco-azzurri nella regular season appena trascorsa. Una partita dall'esito incerto. La formazione di coach Pippo Sidoti ha dato filo da torcere alla Infodrive anche in gara 1, arrendendosi soltanto nel finale dopo una partita in cui i giallorossi sono stati avanti fino a 5 minuti dal termine. Orlandina che arriva a gara 2 con il dubbio Yasaitis. Il fortissimo lituano è reduce da un infortunio muscolare che gli ha già precluso la prima sfida della serie. L'assenza del miglior giocatore non ha comunque creato patemi. I paladini hanno sfruttato il fattore campo e hanno vinto il primo round grazie anche all'apporto dei tifosi. Supporters che saranno presenti anche a Messina domani con palla a 2 alle ore 18 al Palatracuzzi. 150 i biglietti messi in vendita per gli ospiti, già quasi tutti esauriti, così come è prevista una folta affluenza di pubblico a supporto dei locali. Coach Sidoti e i suoi ragazzi faranno di tutto per portare l'Orlandina alla bella, che nel caso sarebbe programmata per mercoledì 15 maggio alla Infodrive Arena. Tra le altre sfide gli svincolati Milazzo proveranno ad avere la meglio della corazzata Raguse e allungare la serie. Molfetta vuole spugnare Sala con Silina per passare il turno, mentre più incerto l'esito tra Viola Reggio Calabria e Salerno. Ricordiamo che chi vince i play-off della Conference Sud sarà automaticamente promosso in Serie B nazionale. La perdente della finale invece avrà una seconda chance nello spareggio conclusivo.